Matteo Baiocco, propositi per questa wildcard a Misano Mondiale Superbike? Domani mattina, domani ho già informato la squadra, voglio entrare per primo, cioè vado là, chi c'è c'è? Non mi importa, non mi frega, faccio Deo assolutamente, ma chi so questi qua? Speriamo a entrare in Superpol, basta perdere cavolate, questa guerra è una scena, cerchiamo di entrare in Superpol un ottimo lavoro oggi ce l'abbiamo fatto, senza scie, un buon tempo, speriamo di far bene dai come vuoi caro, stare nei 10 sarebbe il massimo, la testa passa fino a che non vedo bandiera skype